Ad otto secoli dalla sua costruzione è ancora un'opera fondamentale per la viabilità aretina. Ponte Buriano, il ponte che fa da sfondo alla gioconda di Leonardo da Vinci, solcato ancora oggi da oltre mille veicoli al giorno, verrà finalmente restaurato. I lavori partiranno lunedì 4 settembre e sarà la ditta Baroni Restauri di Firenze ad eseguirli. Inizialmente si interverrà sui cunei che stanno alla base degli archi, una seconda tranche di lavori ci sarà nella primavera prossima. Per eseguire questo restauro sarà però necessario chiudere anche il tratto della Sette Ponti che congiunge Arezzo a Castiglion-Fibocchi attraverso appunto Ponte Buriano. Era un dovere morale oltre che una necessità dover intervenire per ristrutturarlo, per restaurarlo. Come regione lo abbiamo fatto con una legge speciale mettendo a disposizione intanto 700 mila euro che serviranno proprio per questo restauro. Ovviamente il traffico per un periodo starà chiuso, come ci ha detto la provincia. Ci sono delle soluzioni alternative che creeranno comunque qualche disagio, però inviterei ad essere comprensivi perché questo intervento è un intervento davvero necessario e davvero importante. Per i mezzi pesanti il percorso alternativo sarà da indicatore percorrendo la regionale 69 fino ad imboccare nei pressi dell'abitato di Montalto la provinciale 2 Vecchia Aretina, giungendo a Castiglion-Fibocchi. Per tutti gli altri veicoli, compreso il trasporto pubblico, da Ripa di Quarata con svolta per la provinciale 43 della Libia fino alla rotatoria di Campolucci, dove con svolta a sinistra si percorrerà la strada comunale in direzione Castelluccio, località nella quale si svolta ancora a sinistra e percorrendo tutta la provinciale 56 dello Spicchio si giunge all'abitato di Ponte Buriano. Le aziende che hanno mezzi pesanti, trasporti e così via, le soffriranno sicuramente, per cui in qualche modo bisognerebbe che la regione accelerasse un attimo i tempi. Due mesi di sacrificio insomma, ma il Ponte della Gioconda vi ringrazierà.